Allora abbiamo giocato una bella partita a tratti alti e bassi, però soddisfatto, adesso speriamo il risultato di domani. Sì, era una partita molto difficile, abbiamo giocato tanti errori tecnici e si vede che non abbiamo tanta esperienza. Voglio fare complimenti a tutte e due squadre per un'ottima data, un'altra partita, è un peccato che abbiamo perso, ma ancora siamo in questo campionato, non è niente di penso e vediamo domani che si succede.